Durante la prima fase dell'emergenza coronavirus SARS-CoV-2 in Italia, la carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale ha rappresentato un problema nel problema, al quale si è cercato di porre rimedio anche grazie all'iniziativa privata di tanti imprenditori. L'iMask di Siracusa, in Sicilia, è una start-up nata nel bel mezzo del primo lockdown, che ha ideato un'innovativa mascherina in plastica medicale riutilizzabile, con filtri FFP2 e FFP3 sostituibili, omologata come dispositivo sanitario di classe 1, con marcatura CE, registrato all'amministro della salute e conforme alle direttive europee come dispositivo medico. Salvatore Cobuzio, cofondatore e CEO di iMask. Fin dall'inizio l'obiettivo di iMask e della nostra mascherina era quella di creare una mascherina che ancora non esisteva sul mercato e dare alla gente un prodotto diverso rispetto appunto a quello attualmente ovunque in vendita. L'iniziativa dei giovani imprenditori siciliani è stata premiata da un boom di ordini sin dalle prime fasi della vendita online, tanto che dopo solo sei mesi è stata realizzata già una seconda versione della iMask, perfezionata anche grazie ai suggerimenti degli stessi utilizzatori, come ha spiegato ad Ascaniusel cofondatore e designer di iMask Giovanni Gallo. Ci hanno dato degli spunti interessanti, di fatti la mascherina attualmente, la nuova mascherina iMask 2 ha come caratteristiche principali una maggiore l'ergonomia. L'ergonomia è data da questo labbro che abbiamo inserito sulla mascherina. Un'altra miglioria notevole è stata quella dell'efficacia della respirabilità, quindi abbiamo una maggiore respirabilità data dall'aumento della superficie del filtro. Un altro elemento che era fondamentale, che i nostri affezionati clienti ci hanno suggerito, era quella di avere una mascherina ancora più comoda. Quindi abbiamo sostituito la fascia in plastica medicale con un laccetto in tessuto elastico, che dà un maggiore comfort alla mascherina. Adesso il prodotto è molto più comodo, è molto più facile da utilizzare e di sicuro dà delle prestazioni notevoli anche in termini di respirabilità. Il mask 2 costa 15 euro ed è disponibile in vari colori e tagli anche per i bambini, mentre un kit di filtri varia dai 15 euro degli FFP2 ai 19,90 degli FFP3. Ad oggi abbiamo circa un ordine ogni due minuti, quindi comunque è un trend in fortissima crescita, perché a differenza della mascherina 1, la mascherina 2 adesso è sicuramente più performante, funziona meglio e infatti abbiamo voti che vanno dalle 4 alle 5 stelline, dove 5 è il massimo. Quindi su questo siamo fiduciosi, perché siamo veramente convinti di aver fatto un prodotto che funziona molto bene.